Fabio Fazio era mai da diverso tempo sotto attacco. Nel governo è scoppiato addirittura un caso Fazio. Di Maio, durante una audizione in vigilanza Rai, ha detto ai commissari che si deve ritrovare buonsenso nelle retribuzioni. A difendere l'amico e il conduttore ci ha pensato Maurizio Crozza, nella parentesi a che fuori tempo che fa. Ieri hai fatto il 17% di share, un grande risultato, poi ha ironizzato, è proprio un peccato perderti ora che sei all'apice. In seguito ha riflettuto, Spadolini stava lì ad occuparsi della manovra finanziaria e non dei cash di canzonissima. A questo punto è lecito chiedersi quale sarà la prossima mostra del governo gialloverde e Fazio è sufficientemente tutelato dallo share? Grazie per la visione!